Ragazzi, non ci sto credendo, è ufficiale, il Parma ha preso Alves, il Parma ha preso Alves! Non ci posso credere, non ci posso credere, veramente è un acquisto assurdo, un acquisto incredibile. Tutti quelli che dicevano, tanto non comprerete mai nessuno, siete poveri, non acquisterete mai nessuno di importante. Hai visto? Avete visto invece che abbiamo preso? Abbiamo preso Alves, un giocatore così tanto importante, un giocatore che ha giocato Champions League, che ha giocato in campionati internazionali, che ha giocato nella nazionale, ha vinto anche! Ma vi rendete conto che abbiamo preso Alves ragazzi, un difensore che marcava Ronaldo, giusto difensore diciamo per marcar Ronaldo. Abbiamo preso Alves ragazzi, io non ci posso veramente credere, veramente grazie alla dirigenza per questo acquisto incredibile ragazzi. Abbiamo preso Alves, è ufficiale, Alves va al Parma. Non Dani Alves però, non Dani, Bruno Alves. Bruno, non pensavate Dani Alves? No, è Bruno Alves, giocatore del Portogallo, 37enne, campione d'Europa col Portogallo di Cristiano Ronaldo, che giocava nel Cagliari due anni fa, non so se vi ricordate, che mi ha preso una marea di 5 al fantacalcio, ma quello è un altro discorso. Giocatore d'esperienza, comunque come vi ho detto prima, giocatore di grande taratura internazionale, un giocatore importantissimo, fa molto piacere, fa molto piacere per questo acquisto. No, a parte gli scherzi ragazzi. Parma acquista Bruno Alves, appunto, campione d'Europa con Cristiano Ronaldo e col Portogallo, 36enne. È un acquisto che sinceramente mi lascia un pochino perplesso, se posso dire la mia, ecco. Più che altro per una situazione di età. È un giocatore che va a sostituire, se andiamo a pensarci Cristiano, Cristiano, ciao, Alessandro Lucarelli, il capitano, quindi è un giocatore che per età e per ruolo va a sostituire Lucarelli. È un giocatore di grande esperienza alla fine internazionale, ha giocato Champions League, ha giocato Europa League, ha vinto l'Europeo, come vi ho detto prima. È quindi il giocatore che conosce, appunto, Cristiano Ronaldo e sa, teoricamente, come marcarlo. E quindi credo che sia stato acquistato più che altro per la sua esperienza internazionale, magari anche per la sua qualità. Credo che ancora un anno o due riesca a darli Bruno Alves, speriamo che li possa dare tutti e due con noi e giocare in maniera perfetta, ragazzi. Ho fiducia che comunque sia un giocatore che il Parma abbia preso semplicemente come una riserva, visto che dovrà vendere i vari di Cesare, appunto è andato via Lucarelli. Lucarelli dovrebbe aver riacquistato sia Ralta il giovane difensore, però sta trattando anche Tonelli come difensore centrale. Quindi potrebbe essere un Bruno Alves Tonelli o un Giacoponi Tonelli, eventualmente la formazione titolare, i due difensori centrali del Parma. Se lo usiamo come, appunto, riserva che può far rifiatare tutti gli altri e fare comunque le sue ottime prestazioni, va benissimo. Un giocatore di grande esperienza, quindi va benissimo come acquisto. Se lo dobbiamo usare come titolare fisso, lì mi faccio qualche domanda, ma io comunque ho fiducia nella società anche per la situazione che si è venuta a creare, quindi sapete che più di così il Parma non può fare in questo momento. Quindi va bene così, benvenuto Bruno Alves, speriamo che tu possa lasciare una traccia indelebile nel nostro cuore. Almeno lo spero.